Siamo con Nicola Mancini del Movimento Trivelle Zero Marche. Dopo questa assemblea molto partecipata, in cui diverse realtà sono intervenute, anche sicuramente portando dei contenuti interessanti, vogliamo un po' chiederti qual è la tua impressione rispetto all'assemblea che è appena passata. L'assemblea è un'ottima assemblea, fuori e oltre le nostre aspettative, sia da un punto di vista della partecipazione numerica, sia per quanto riguarda il territorio marchigiano, sia per quanto riguarda le delegazioni dal resto d'Italia, ed è soprattutto un'assemblea di grande qualità politica. Grande qualità politica perché assume in maniera sostanzialmente unanime una serie di assi fondamentali. La prima è l'idea del territorio come campo di battaglia nel conflitto, nello scontro tra capitale e vita. E quindi l'idea come dire che il capitalismo ormai non è solo insopportabile per la democrazia, ma proprio insopportabile, nega la possibilità di riprodursi della vita stessa in termini liberi e autonomi. E questo appare molto chiaro in tutti gli interventi che sono stati fatti. Il secondo elemento fondamentale è l'idea delle pratiche. L'idea delle pratiche con un atteggiamento estremamente laico, dove ciò che decide le pratiche è l'efficacia delle pratiche stesse. Quindi un'apertura a 360 gradi dove l'importante è non rompere mai la dimensione, la relazione tra pratica, conflitto e legame sociale, cioè ampliamento e massificazione del consenso che quella pratica porta in sé e mette in campo. Questi mi sembra che intanto siano i due assi di discorso che sono importanti e fondamentali da sottolineare dell'Assemblea. Il terzo elemento ovviamente è l'agenda. L'agenda che si sta costruendo innanzitutto dentro una campagna contro la devastazione e il saccheggio dei nostri territori e dei diritti sociali. Su questo apriamo una parentesi importante, cioè il fatto che forse per la prima volta a un'assemblea sui temi ambientali, per semplificare ovviamente, sono state presenti anche, ci sono presenti delle delegazioni importanti sia dei movimenti contro la buona scuola sia dei movimenti contro il job act. Questa cosa ci fa ben sperare perché vuol dire una relazione ancora più stretta tra le lotte e le resistenze presenti in Italia e quindi una messa in discussione al sistema che Renzi sta mettendo in campo, che ovviamente trova nello sblocca Italia in questo momento il suo epicentro, ma che non può escludere ovviamente la buona scuola e il job act. Torniamo sull'agenda e la questione è questa, da una parte l'adesione alla manifestazione del 14 ottobre a Roma in solidarietà con il movimento Non Brina, in quanto in quel giorno il Parlamento approverà di fatto l'ennesimo scempio in Adriatico. E poi questa grande adesione a questa settimana, dieci giorni di mobilitazione nazionale da svolgersi nei territori in contemporanea al COP21, quindi al summit del clima che ci sarà a Parigi, che vedrà un momento importante anche nel 29 novembre da costruire nei vari paesi e nelle varie città e che però si interseca anche con il decennale della ripresa di Venaus da parte del movimento Notav. Ecco, pensiamo che queste siano delle prime scadenze di questa campagna contro la devastazione e il saccheggio per deturnare, per rovesciare contro invece l'operazione politico-giudiziaria che lo Stato e gli organi di repressione stanno scatenando contro centinaia, se no migliaia di attivisti politici in Italia e che stanno producendo anni di carcere e di limite della libertà. Ecco, quindi anche un elemento di assunzione importante di questa assemblea è anche questo, cioè deturnare, rovesciare l'attacco che lo Stato sta portando nei confronti degli attivisti e dire che chi devasta e saccheggia non è chi defende il territorio ma è chi il territorio lo avvelena.